La sicurezza sul lavoro è uguale per tutti? Non esiste un'azienda uguale all'altra. Servono pieni specifici e figure specializzate per salvaguardare la tua attività. La sicurezza sul lavoro non è un'opzione, ma un obbligo di legge che prevede servizi come ad esempio soccorso, vigilanza e valutazione del rischio. Facile Sicurezza ti affianca con tecnici qualificati che provvederanno alla sicurezza, all'organizzazione e all'aggiornamento di pratiche documentali della tua azienda. Facile Sicurezza. Il miglior alleato per un'azienda sicura.